«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi solitamente indugiale davanti allo specchio. «Niente», le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice, premendo, avverto un certo dororino». Mia moglie sorrise e disse, «Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai, come un cane a cui qualcuno abbia pestato la coda. Mi pende? A me? Il naso?» e mia moglie placidamente, «Ma sì, caro, guardatelo bene. Ti pende verso destra». Avevo ventotto anni e sempre, fino allora, ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme a tutte le altre parti della mia persona. Per cui mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire a un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta, improvvisa in attesa di quel difetto, perciò mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mend, me ne levassi pure, perché, come il naso mi pendeva verso destra, così, che altro? Eh, altro, altro. Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi. Le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra. E altri difetti. Ancora? Eh sì, ancora. Nelle mani, al dito mignolo. E nelle gambe. No, storte no. La destra, un pochino più arquata dell'altra. Verso il ginocchio, un pochino. Dopo un attento esame, dovette riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, cambiando certo per dolore avvirimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie, per consolarmi, mi esortò a non afflizzermene poi tanto, che anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell'uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che, come diritto, c'è stato prima negato. Schizzai un venenosissimo grazie, e sicuro di non aver motivo, né da addolorarmi né da avvirirmi, non diedi alcuna importanza a quegli avvi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiare di naso, sempre con quello, e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe. E dovevo aspettare di prendere moglie per aver conto che li avevo difettosi. Ah, che meraviglia! E non si sa, le mogli, fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco già, le mogli, non nego. Ma anch'io, se permettete, di quei tempi, ero fatto per sprofondare ogni parola che mi fosse detta o mosca che vedessi volare in avissi di riflessioni e considerazioni, che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa, senza che di fuori ne paresse nulla. Si vede, voi dite, che avevate molto tempo da perdere. No, ecco, per l'animo in cui mi trovavo, ma del resto sì, anche per l'ozio, non nego. Ricco, due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano i miei affari dopo la morte di mio padre, il quale, per quanto ci si fosse adoperato, con le buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla, tranne di prendere moglie, questo sì, giovanissimo. Forse con la speranza che avessi presto un figliuolo, che non mi somigliasse punto. E, pover uomo, neppure questo aveva potuto ottenere da me. Non già badiamo che io ponessi volontà a prenderle via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma camminarsi? Non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo. Mi mettevo, prima alla lontana, poi sempre più da vicino, a girare attorno a ogni sassolino che incontravo. E mi meravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso a quel sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni di una montagna insormontabile, anzi, di un mondo in cui avrei potuto senz'altro domiciliarmi. Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che mi erano passati avanti e avevano percorso tutta la via ne sapessero in sostanza più di me. Ma erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti bravezzando, come tanti cavallini. Ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro, il loro carro. Erano stati attaccati con molta pazienza e ora ve lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro, io, e non avevo perciò né briglie né parocchi. Vedevo certamente più di loro, ma andare... non sapevo dove andare. Ora, ritornando alla scoperta di quegli evi difetti, profondai tutto, subito, nella riflessione che dunque, possibile. Non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo. le cose mie che più intimamente mi appartenevano. Il naso, le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto impazzito ove in esso medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmene. 2. E il vostro naso? Già subito mi figurai che tutti, avendone fatta mia moglie la scoperta, dovessero accorgersi di quei miei difetti corporali e altro non notare in me. Mi guardi il naso? domandai tutt'antratto quel giorno stesso a un amico che mi sarà accostato per parlarmi di non so che affare che forse gli stava a cuore. No, perché mi disse quello? E io, sorridendo nervosamente, mi vende verso destra? Non vedi? E glielo impusi una ferma e attenta osservazione, come quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto sopravvenuto al congegno dell'universo. L'amico mi guardò in prima un po' stordito, poi, certo sospettando che avessi così, all'improvviso e fuori luogo cacciato fuori il discorso del mio naso perché non stimavo degno né di attenzione né di risposta l'affare di cui mi parlava, chiede una spallata e si mosse per lasciarmi in asso. Lo acciappai per un braccio e... No, sai, gli dissi, sono disposto a trattare con te e con dest'affare, ma in questo momento tu devi scusarmi. Pensi al tuo naso. Non m'ero mai accorto che mi pendesse verso destra. Me ne ha fatto accorgere questa mattina mia moglie. Ah, davvero? mi domandò allora l'amico. E gli occhi gli risero d'una incredulità che era anche derisione. Le stai a guardarlo, come già mia moglie la mattina, con un misto d'avvilimento, di stizza e di maraviglia. Anche lui, dunque, da un pezzo se n'era accorto. E chissà quant'altri con lui. E io non lo sapevo e pur sapendolo credevo d'essere per tutti un moscarda col naso dritto. Mentre ero invece per tutti un moscarda col naso storto. e chissà quante volte mi era avvenuto di parlare senza alcun sospetto del naso difettoso di Tizio o di Caio e quante volte perciò non avevo fatto ridere di me e pensare ma guarda un po' questo pover uomo che parla dei difetti del naso altrui. Avrei potuto davvero consolarmi con la riflessione che alla fin fine era ovvio e comune il mio naso il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri ma il primo germe del male aveva cominciato a metter radice nel mio spirito e non potei consolarmi con questa riflessione. Mi si fissò invece il pensiero che io non ero per gli altri quel che finora dentro di me m'ero figurato di essere. Per il momento pensai al corpo soltanto e siccome quel mio amico si guidava a starmi davanti con quell'aria di incredulità derisoria per vendicarmi gli domandai se egli dal canto suo sapesse di aver nel mento una fossetta che glielo divideva in due parti non del tutto uguali una più rilevata di qua una più scempia di là. Io ma che esgramò l'amico io ho la fossetta lo so ma non come tu dici. Entriamo là da quel barbiere e vedrai gli proposi subito. Quando l'amico entrato dal barbiere si accorse con maraviglia del difetto e riconombe che era vero non volle mostrarne stizza. Disse che in fin dei conti era una piccolezza. Eh sì senza dubbio una piccolezza. Vidi però seguendolo da lontano che si fermò una prima volta a una vetrina di bottega e poi una seconda volta più in là davanti a un'altra e più in là ancora e più a lungo una terza volta allo specchio d'uno sporto per osservarsi il mento e sono sicuro che appena rincasato sarà corso all'armadio per far con più agio a quell'altro specchio la nuova conoscenza di sé con quel difetto. E non ho il minimo dubbio che per vendicarsi a sua volta o per seguitare uno scherzo che gli parve meritasse una larga diffusione in paese dopo aver domandato a qualche suo amico come già io a lui se mai avesse notato quel suo difetto al mento qualche altro difetto avrà scoperto lui o nella fronte o nella bocca di questo suo amico il quale a sua volta ma sì ma sì potrei giurare che per parecchi giorni di fila nella nobile città di Richieri io vidi e non fu proprio tutta mia immaginazione un numero considerevolissimo di miei concittadini passare da una vetrina di bottega all'altra e fermarsi davanti a ciascuna osservarsi nella faccia chi uno zigomo chi la coda di un occhio chi un lobo d'orecchio e chi una pinna di naso e ancora dopo una settimana un certo tale mi si accostò con aria smarrita per domandarmi se era vero che ogni qualvolta si metteva a parlare contraeva inavvertitamente la palpebra dell'occhio sinistro sì caro gli disse a precipizio e io vedi il naso mi pende verso destra ma lo so da me non c'è bisogno che me lo dica tu e le sopracciglia ad accento circonflesso le orecchie qua guarda una è più sporgente dell'altra e qua le mani piatta eh e la giuntura storpia di questo mignolo e le gambe qua questa qua ti pare che sia come quell'altra no eh ma lo so da me e non c'è bisogno che me lo dica tu stati bene lo piantai lì e via fatti pochi passi mi sentii richiamare psst placido placido col dito colui mi attirava a sé per domandarmi scusa dopo di te tua madre non partorì altri figlioli no né prima né dopo gli risposi figlio unico perché perché mi disse se tua madre avesse partorito un'altra volta avrebbe avuto di certo un altro maschio ah sì come lo sai ecco dicono le donne del popolo che quando ha un nato i capelli terminano sulla nuca in un codiniccio come codesto che tu hai costi sarà maschio il nato appresso mi portai una mano sulla nuca e con un sogginetto frigido gli domandai ah ciao come hai detto codiniccio caro lo chiamano a richieri ah ma questa niente esclamai me lo posso far tagliare negò prima col dito poi disse ti resta sempre il segno caro anche se te lo fai radere e questa volta mi piantò lui terzo bel modo di essere soli desiderai da quel giorno ardentissimamente d'essere solo almeno per un'ora ma veramente più che desiderio era bisogno bisogno acuto urgente smanioso che la presenza o la vicinanza di mia moglie esasperavano fino alla rabbia hai sentito gengè che ha detto ieri michelina contorzo ha da parlarti d'urgenza guarda gengè se a tenermi così la veste mi paion le gambe si è fermata la pendola gengè gengè la cagnolina non la porti più fuori poi ti sporca i tappeti e la sgridi ma dovrà pure povera bestiolina dico non pretenderai che non esce da ieri sera non temi gengè che Anna Rosa possa essere malata non si fa più vedere da tre giorni e l'ultima volta le faceva male la gola è venuto il signor Firbo gengè dice che ritornerà più tardi non potresti vederlo fuori dio che noioso oppure la sentivo cantare e se mi dici di no caro il mio ben domani non verrò domani non verrò domani non verrò ma perché non vi chiudete in camera magari con due turaccioli negli orecchi signori vuol dire che non capite come volevo essere solo chiudermi potevo soltanto nel mio scrittoio ma anche lì senza poterci mettere il paletto per non far nascere tristi sospetti in mia moglie che era non dirò trista ma sospettosissima e se aprendo luce all'improvviso mi avesse scoperto no e poi sarebbe stato inutile nel mio scrittoio non c'erano specchi io avevo bisogno di uno specchio altra parte il solo pensiero che mia moglie era in casa bastava a tenermi presente a me stesso e proprio questo io non volevo per voi essere soli che vuol dire restare in compagnia di voi stessi senza alcun estraneo attorno eh sì va sicuro che è un bel modo codesto da essere soli vi sapre nella memoria una cara finestretta da cui ci affaccia sorridente tra un vaso di calofani e un altro di gelsuomini la Titti che lavora all'uncinetto una fascia rossa di lana oddio come quella che ha il collo quel vecchio insopportabile signor Giacomino a cui ancora non avete fatto il biglietto di raccomandazione per il presidente della congregazione di carità vostro buon amico ma seccantissimo anche lui specie se si mette a parlare delle marachelle del suo segretario particolare i quali ieri no quando fu l'altro ieri che pioveva e pareva un lago la piazza con tutto quel brillio di still a un allegro sprazzo di sole e nella corsa Dio che guazzabuglio di cose la vasca quel chiosco di giornali il tram che infilava lo scambio e strileva spietatamente alla girata quel cane che scappava basta vi ficcaste in una sala di biliardo dove c'era lui il segretario del presidente della congregazione di carità e che risatine si faceva sotto i baffoni perosi per la vostra disdetta allorché vi siete messo a giocare con l'amico Carlino detto quinta decima e poi che avvenne poi uscendo dalla sala del biliardo sotto il languido fanale nella via umida deserta un povero ubriaco malinconico tentava di cantare una vecchia canzonetta di Napoli e tant'anni fa quasi tutte le sere udivate cantare in quel borgo montano tra i castagni avrevate andato a villeggiare per star vicino a quella cara Mimì che poi sposò il commendatore della venera e morì un anno dopo oh cara Mimì eccola eccola un'altra finestra che vi sapre nella memoria sì cari miei v'assicuro che è un bel modo d'essere soli codesto che è un bel modo Grazie a tutti